Oggi sembra la volta buona, oggi sembra la volta in cui Bitcoin è riuscito finalmente a rompere il livello di resistenza storico, il suo ATH è ancora presto per dirlo perché almeno abbiamo bisogno di quella che è una conferma da un punto di vista daily, quantomeno, di chiusura al di sopra dei 70.000 dollari ormai livello di resistenza storico, all time high di Bitcoin della precedente fase di bull run del 2021 e poi ritestato nei giorni scorsi diverse volte in maniera non positiva perché più volte il mercato aveva poi ritracciato in maniera profonda. Nella nottata di oggi c'è stata una accelerazione per quanto riguarda Bitcoin, accelerazione che poi è andata in pratica a configurarsi come un breakout effettivo. Vi faccio vedere quello che per esempio è l'accelerazione delle ore proprio notturne di questa notte che è avvenuta dalle 7 del mattino, non è proprio notte, comunque è iniziata all'1 la fase di rialzo, mentre poi l'impennata è arrivata alle 7.45 circa e ha fatto questa zona qui. Quindi dal minimo dell'1.45 tutta questa fase poi ha portato al superamento del livello di resistenza con il breakout avvenuto alle 8 di mattina e adesso sta cincischiando sulla zona 72.000 dollari. Ora, da un punto di vista di analisi ciclica ci sono delle cose da andare a vedere in questo video, da un punto di vista di analisi tecnica anche. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Non vedete il mio solito faccione perché sono fuori, sarò fuori per un bel po' di tempo, quindi vediamo se riesco a farvi qualche contenuto un po' anche in pace, soprattutto se andiamo poi a confermare questo breakout a livello anche settimanale, perché a me non interessa neanche soltanto il daily, ma bensì il grafico settimanale. Questo qui, eccolo qui. Il grafico settimanale, perché il grafico settimanale con il breakout confermato è estremamente più indicativo. C'è però già un primo dato che possiamo andare a vedere su questo grafico settimanale che vedremo proprio in questo video. Bene, prima di andare avanti ragazzi, io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto lasciatemi il mi piace perché oggi voglio mostrarvi tante cose anche fighe, soprattutto anche questa tabella di mezzari che andremo a ragionare, perché c'è un'accelerazione anche notevole delle stablecoin, scusate, delle altcoin, stablecoin accelerari, la vedo un po' difficile, delle altcoin rispetto anche a Bitcoin, ma non di ETH, perché per esempio per quanto riguarda la solita analisi che noi andiamo a vedere sempre, il solito grafico che noi andiamo a vedere sempre con il bilanciamento Ethereum contro Bitcoin, non è cambiato assolutamente nulla, quindi è barra di congestione ancora per la regina delle cripto, però alcune criptovalute si sono mostre, e si sono mostre in maniera secondo me importanti, quindi bisogna andare un po' a fare il punto anche di questa situazione e andare a vedere anche quelle che sono queste tabelle. Prima di fare tutto questo, ragazzi allora andiamo a vedere brevemente il calendario economico di questa settimana, perché in effetti ci sono delle cose che sono interessanti da andare a vedere. Ad esempio la pubblicazione nella giornata di domani 12 di marzo del tasso di inflazione per quanto riguarda gli Stati Uniti, che è previsto intorno al 3,1%, praticamente identico al precedente, ancora non a target ma di poco, quindi vicino al target del 3% annuo, però secondo me questa è un'inflazione che ancora è decisamente alta per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, perciò la Banca Centrale Americana, perciò la Banca Centrale Americana tenterà di mantenere i tassi ancora alti, fin tanto che questo tasso di inflazione secondo me non scenda intorno al 2,5-2,6%, è ancora abbastanza alto. Poi ci sono i vari dati legati per esempio alla richiesta di sussidi di disoccupazione, praticamente previsti in stabilità, c'è stato un incremento la settimana scorsa di quello che era il tasso di disoccupazione, ma quasi niente, insomma pochissimo, che però potrebbe essere un abisaglio. Ricordiamoci sempre che da un punto di vista di mercati classici, noi quello che dobbiamo fare in questo momento è cercare in pratica quelli che sono i vari indicatori che ci possano indicare un arrivo di una recessione, perché quello che si sta aspettando dal punto di vista dei mercati classici è appunto la recessione in vista di questa inflazione, che però stenta ad arrivare perché c'è una grande forza dell'economia in questo momento. Allora, detto questo, poi vi faccio vedere anche il grafico dell'attesa del PONCO, perché fra nove giorni ci sarà un PONCO molto importante, il 20 marzo, quello legato alla decisione della parte della Banca Centrale Americana, la Fed, sui tasti di interesse che, come vedete, sono previsti praticamente in stabilità, cioè non verranno modificati. Anche questa è un'indicazione abbastanza chiara del fatto che vi dicevo prima, cioè che la Fed vorrà mantenere i tassi alti fino a quando non si vedranno dei ribassi sostanziali e anche duraturi, secondo me, del livello di inflazione. Quel 3,1% è buono, ma non è quello che la Fed vuole. Difficilmente abbasserà i tassi se non ci sarà un'inflazione che ti avvicina un po' più al 2% e soprattutto è mantenuta sotto controllo, perché non vuole reinnescare, ovviamente, una spirale rialzista a livello inflazionistico. Andiamo a vedere anche nei mesi successivi. Infatti maggio, che prima era previsto come il primo mese di ribasso dei tassi, è stato modificato anche in questo caso, anche maggio, per il 73% dei partecipanti a queste tabelle, insomma, quelle che sono le opinioni dei istituzionali, sarà mantenuto stabile. E solo giugno prevede un po' di mobilità, cioè una metà che punta per un'edizione dei tassi, ma c'è una fetta che addirittura indica anche giugno come un mese di stabilità. E poi una piccola parte che addirittura indica un taglio di mezzo punto percentuale, quindi non soltanto di uno 0,25, che secondo me è un po', diciamo, eccessivo. Poi andando avanti, ovviamente, la previsione diventa estremamente imprecisa, quindi è inutile, insomma, andarlo a vedere. Fatto sta che nel prossimo FONC, probabilmente atteso, probabilmente il riazzo dei tassi non sarà fatto nessun taglio dei tassi. Ecco, ragazzi, è atteso il FONC per il 20 di marzo e non sarà effettuato alcun taglio dei tassi. Questo per noi, amanti del settore dell'eclitto, è positivo. Perché? Perché la fase attuale dei mercati delle criptovalute non è pompata da un'attesa del ribasso dei tassi di interesse, quindi di una immissione di liquidità da parte della banca centrale, diciamo, degli Stati Uniti. Questo potrebbe far deporre molto bene per quanto riguarda, per esempio, una eventuale fase, poi, successiva di continuazione di questo movimento realzista per quanto riguarda i mercati delle criptovalute, che poi è quello che essenzialmente noi vogliamo. C'è da dire che i prezzi sono veramente alti di Bitcoin, ma il trend non si arresta in questo momento, quindi trend is my friend, come vi ho spiegato veramente da ormai tanto, tanto tempo, e quindi non possiamo che essere favorevoli. Poi, quando ci sarà eventualmente un'inversione, perché oggi già vi incomincio a dare un po' di dritte relativamente anche alla fase ciclica verso la quale stiamo andando incontro, perché il mercato con questo breakout ha, secondo me, indicato in maniera chiara e definitiva, insomma, ecco, ormai era quasi definitivo, però io sono sempre molto attento prima di dirvi determinate cose, comunque indicato in maniera chiara e definitiva che l'attesa di un'eventuale fase di chiusura ciclica del annuale di marzo non avverrà, perché siamo in un biannuale a forma ternaria, cosa di cui abbiamo parlato veramente tanto spesso, e che era ormai l'ipotesi più accreditata, però comunque c'era anche una fase, una possibilità di assistere con un repentino fase di ribasso che magari poteva durare dieci giorni, quindi veramente un ribasto lampo notevole che chiudesse quest'annuale, cosa che non sembra proprio, poi addirittura la rottura di un massimo storico in questa fase, siccome l'annuale doveva chiudersi intorno al massimo fino a mese di marzo, quindi fra dieci giorni circa, è molto, insomma, già eravamo lunghi come tempi, poi adesso da qui in poi, dopo una rottura di un massimo dieci giorni prima della gestione annuale, è veramente una, sarebbe un outliers ciclico statistico, insomma, veramente fuori dal normale, e non cambia niente a livello operativo, perché non abbiamo seguito quello scenario lì, quindi da un punto di vista tecnico non cambia niente, le operazioni sono ugualmente sempre posizionate a favore di trend, perciò non cambia niente, però era un po' anche l'idea di mantenere anche una view pessimista, diciamo così, sotto mano, però in questo momento non è così. Non cambia però che cosa, ragazzi, non cambia la questione che ciclicamente stiamo andando verso una fase di top, di quello che è questo movimento a questo punto, che non è più un movimento di seconda fase di un annuale, ma è un annuale bello e buono, cortissimo, che fa parte in pratica di un biannuale ternale, quindi è il secondo movimento di un due anni collegati insieme, che però farà questo tipo di movimento, quindi anche in questo caso questa zona, che stiamo andando a costruire in questa fase, sarà la zona di top di questo movimento, un po' come è stato fatto anche nel movimento precedente, che era appunto quello che ci aveva dato il problema di comprensione appunto di questa questione annuale, cioè non ci aveva fatto capire se effettivamente, eccolo infatti, questo che era il movimento costituito da tre strutture cicliche di trimestrali anche belli lunghi, anche molto molto lunghi, che è stato inquadrato diciamo proprio in questa ultima fase, questo era un movimento da 300 circa giorni, 295, la struttura è stata creata a forma ternaria, anche in questo caso con tre strutture cicliche create in questo modo, come si vede insomma, ecco quello è il concetto da mettere in tasca diciamo in questo video, questa fase qui è una fase di top, ora qui ha fatto un doppio massimo, ma soprattutto questo quello che conta, perché in realtà a livello ciclico un ciclo rialzista come questo, questo è senz'altro un ciclo rialzista, altrimenti dovremmo scendere al di sotto di 24 mila dollari, quindi insomma la vedo un po' diciamo apocalittica come situazione, quindi questa fase intanto è di natura binaria, sembra proprio così, quindi dovrebbe andare a concludere la sua fase di top in questa zona, attenzione, perché questa fase di top non è la fase di top del ciclo maxi, quello che racchiude tutti questi movimenti, ma è la fase di top di questa fase, poi dopo la chiusura di questa struttura ciclica, che sarà ora la nostra nuova, il nostro nuovo punto di riferimento, cioè andare a comprendere quando dove chiude questa fase, questo movimento che è iniziato in pratica dei minimi di settembre 2023, e poi si va a riposizionare, perché qui stiamo andando nella visione del mio video sull'alving, quello che trovate sul canale, andatelo a rivedere ragazzi, la questione del video sull'alving è importantissima, dove vi indicavo appunto che questa è la fase della serie storica, in cui stiamo andando a fare i massimi storici in ATH, prima dell'alving, e poi nell'unico evento, se non erro, che storicamente ha visto un massimo prima dell'alving di Bitcoin, poi si è andato a fare circa 100 giorni di laterale ribassista, e riposo dopo l'alving, solo per poi riprendere la vera fase di Burran, in sostanza, se andammo a ripetere quello che è quel discorso lì, questa fase che noi stiamo vedendo non è una Burran, benessì è l'anticipo della Burran, è una quasi Burran, ecco diciamo così, la fase è sicuramente iniziata la Burran, però non è proprio quella esplosiva, ecco diciamo così, la parte finale che dura poi 4-5 mesi, non so su questo se prendere con un certo grado di tranquillità i dati storici precedenti, perché sono veramente molto distanti, e perché tante cose attuali non coincidono in nessun modo con quel periodo storico di Bitcoin, perciò io li valuto ragazzi, però sapete bene che il dato storico di per sé, preso così alla cieca, solo come un copia e incolla, non ha nessun tipo di logica, l'analista deve andare ad analizzare i dati sottostanti, a quella fase, per comprendere se effettivamente può avere una validità a tenderci una cosa del genere, io in questo momento non mi esprimo, ma faremo un video dedicato su questa cosa, in maniera esplicita, allora andiamo a vedere la questione legata, invece ai cicli più brevi per quanto riguarda Bitcoin, poi vi mostro questa tabella, non scappate perché questa tabella è una figata pazzesca, e voglio farvela vedere, anche perché potete replicarla anche voi stessi, andando diciamo ad avere questo tipo di informazioni, allora questa fase a livello ciclico, questa fase qui, iniziata per esempio il 23 di febbraio, è iniziata il 23 di febbraio, ed è secondo me, comunque anche questa ribazzone che era avvenuto il 5 di marzo, non fa parte della chiusura del mensile, io vedo un mensile che, se è di natura binaria, è più probabile che sia stato chiuso il 23 febbraio, solo se è una forma ternaria così costruita, allora possiamo andare un po' a fare questo tipo di ragionamento, era un po' il mio primo scenario, quella della chiusura con l'altalena, in effetti l'altalena c'è stata poi qui, però non so, non mi convince ora che guardo questa forma, e questo movimento ciclico, non mi convince tanto, un solo giorno di ribasso, senza capo e ne coda, diciamo fatto con sciacquoni, che però non chiude neanche al di sotto, di determinati livelli, nemmeno sotto il minimo del giorno precedente, insomma, verifico qui che secondo me, ci sono più le condizioni per una chiusura del ciclo, mensile piuttosto che qui, che però in una fase così acuta di rialzo, i cicli più piccoli, addirittura qui parliamo di mensili, non si vedono, è quello il problema, cioè diventa ingestibile poi andare a utilizzare l'analisi ciclica in questo modo, proprio perché i cicli iniziano a non vedersi. Fatto sta che da un punto di vista appunto logico, per comprendere se effettivamente stiamo andando proprio vicini a un massimo, dobbiamo ragionare proprio sul mensile, perché qui dal minimo del 23 di febbraio siamo a 17 giorni, quindi teoricamente se replica un mensile corto, cioè normale, come ha fatto l'altra volta, da 30 giorni, in pratica siamo vicini ai massimi del ciclo mensile, che dovrebbero avvenire in questa settimana massimo, ecco una cosa del genere. Se poi andiamo molto oltre questa zona, allora è possibile riconsiderare la questione del mensile come l'altalena, con l'ipotesi dell'altalena, quindi come chiuso invece il 5 di marzo, però io al momento vado con cautela e vado a considerare il mensile partito da qui, anche perché l'unica cosa che fa è avere più prudenza, questo tipo di logica rispetto all'attuale situazione. Da un punto di vista di analisi sulla candela weekly, vi faccio vedere quello che era il grafico su weekly, eccolo qui, allora un dato evidente c'era, cioè la scorsa settimana è stato fatto un massimo in chiusura di ATH, cioè la settimana che ha chiuso praticamente stanotte, domenica, al mezzanotte, ha superato i massimi storici in close, che erano 65,4 e 74, ed è stato fatto in questa settimana un massimo a 68,9 e 51. Prezzi Bitfinex in questo caso, io utilizzo Bitfinex ragazzi, ma potete anche utilizzare altri exchange, questo significa che è stato fatto già un ATH in chiusura settimanale che ha superato il precedente, e questo è un dato fortemente, fortemente rialzista di analisi tecnica. L'atteggiamento su questi tipi di breakout è sempre lo stesso ed è fortemente rialzista da un punto di vista di analisi tecnica. Ora, manca un po' perché le oscillazioni sono ancora troppo piccole per andare a indicare questo breakout come definitivo, cioè noi, a dire la verità, per andare ad avere un breakout che è insomma più considerabile, più consistente, dovremmo addirittura arrivare vicino agli 80.000, cioè avere una view di analisi tecnica che va a superare i almeno 75-76, cioè questa zona qui. Allora, a quel punto il breakout sarà imponente, diciamo più forte. Ora, a un punto di vista operativo è intradabile una cosa del genere, lo capite, però da un punto di vista di conferma del segnale, io ho il segnale che conferma un vero breakout di questo livello, che non è un finto breakout, che poi non può spociare in un finto breakout, ecco questo qui, è il livello dei 75-76, questa zona qui. Poi, cosa succede? Di solito si va a fare il pullback di questo livello, non è sempre così. Vi ho fatto anche il video che trovate sul canale, ragazzi, quello legato al 110%, perché l'ultima volta che ha fatto il breakout è andato diretto in 20 giorni a fare più 110% di rialzo. Io sono un po' dell'idea che non sia questo il caso, perché non è quello che è voluto in questo momento, un impulso rialzista molto forte, non è quello che è voluto, perché qui c'è la mano forte degli ETF che stanno accumulando, quindi direi che non è quella la view, però bisogna anche ricordarsi appunto la potenza di un segnale di breakout di un massimo storico, di un asset, come in questa fase, tra l'altro supportato da un'analisi di natura fondamentale. Passiamo all'ultimo grafico che vi avevo promesso, la tabella di messaggi, dove noi andiamo a vedere la forza relativa di quelle che sono alcune criptovalute verso Bitcoin, e c'è una forza relativa. C'è una forza relativa che è diventata più imponente. Ho fatto un grafico filtrato, cioè una tabella filtrata, perché non mi andava a dimostrarvi quelli che sono degli asset e delle cripto piccolissime, che non hanno motivo, insomma, di essere mostrate, perché magari soffrono di tanta speculazione. Ho messo comunque una market cap circolante di almeno 700 milioni, che comunque è già filtrata, ma lascia dentro moltissima, tra virgolette, spazzatura, diciamo così, cioè nasce dentro comunque del cripto che sono comunque piccole, e anche estremamente manipolate. Allora, ho messo poi due tipi di indicazione, cioè una colonna che mi porta il monthly to date, cioè il rialzo di queste criptovalute nell'ultimo mese rispetto a Bitcoin, e il rialzo annuale rispetto a Bitcoin. Ora sono mette in classifica del rialzo dell'ultimo mese. Guardate quante criptovalute sono state più forti di Bitcoin, nonostante Ethereum non abbia performato in maniera decente, e le altre cripto lo sono state, ce ne sono tante, 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 molte di più dell'anno scorso. In questo caso sono 82 criptovalute che nell'ultimo mese hanno sovraperformato Bitcoin. Però c'è anche da dire quanto di queste sono veri progetti accettabili, perché molti sono meme coin, come vedete in questo caso c'è Pepe, Shiba, c'è Floki, alcuni invece sono interessanti, come RBN per esempio, che sta facendo un'ottima performance anche a livello annuale, year to date su Bitcoin, e quindi sta performando molto bene anche Gala e lo stesso Bitcoin Gold, che se vi ricordate il mio video, attenzione all'approvazione dell'ETF, conferma quella che era la più tecnica che avevamo ragionato su chi poteva effettivamente beneficiare della produzione dell'ETF di Bitcoin oltre a Bitcoin, cioè i suoi spin-off, i suoi fork, ed Bitcoin Gold è uno di questi, incredibile, ma è vero. Poi Pixel lo prendere con le pinze perché è stata appena emessa, quindi insomma non la considero, poi Gala invece, Nier, Teta ragazzi, tutte cripto importanti, poi qui abbiamo di nuovo MemeCoin, Phantom che nell'ultimo mese ha accelerato moltissimo rispetto a Bitcoin, anche se a livello annuale ha un ancora anno negativo, poi c'è FET che ha un anno positivo su Bitcoin, render stratosferica, anche perché ha un rialzo molto preciso, molto puntuale, non è così tanto da MemeCoin. Ecco, Rune che è una delle mie cripto preferite, che ne abbiamo anche messa nel nostro portafoglio dell'Academy, che sta performando molto bene su Bitcoin vicino ai massimi storici, se non erro, R-Wave che è andata benissimo. Vedete, questi sono tutti progetti interessanti, c'è anche Luna che addirittura ha preso in questo mese, ma comunque è negativa a livello annuale. Ci sono tanti ragazzi, c'è che sono tutti progetti interessanti, Ancora una volta Bitcoin Cash è salito un po' meglio di Bitcoin, ma più o meno come Bitcoin nell'ultimo anno. C'è Agix fortissima, GRT, The Graph fortissima, Pycoin che è entrata da poco anche nel mio portafoglio dell'Academy, credo che sarà una di quelle cripto che continueremo ad accumulare nel portafoglio dell'Academy, purtroppo, ahimè, non è finito perché eravamo al 35% di accumulo, è partito un cirurone, praticamente abbiamo quasi raddoppiato il capitale, però non era quello il mio obiettivo, io volevo che partisse questa cosa dal 50% di accumulo in su, invece è iniziata troppo presto, e vabbè, ahimè, e ci accontentiamo. Poi c'è Pyth, anche in questo caso Pyth Network, il CRO che continua, diciamo, a ancora performare, cioè riesce comunque a mantenersi in linea con Bitcoin, e comunque altre cripto. Vi faccio vedere anche alcune che sono le top, che stanno magari avendo un atteggiamento positivo su Bitcoin a livello annuale, non soltanto a livello mensile. Ed eccole qui, escludendo quelle che sono le MMCoin, andiamo a prenderci quelle che hanno una grande capitalizzazione. Ora, qui c'è Shiba, che ovviamente è ipercapitalizzata, che ha guadagnato il 100% più di Bitcoin quest'anno, e sta guadagnando quasi tutto nell'ultimo mese, perché sta facendo più 74 con questo esplua dell'ultimo mese. Se scendiamo, vediamo che tra le cripto che hanno un'alta capitalizzazione, non c'è praticamente niente, se non le due memecoin in top cap, che sono Doge e Shiba, e poi abbiamo Uniswap, tra le top, quindi sopra i 10 billion, e scendendo abbiamo Lido, che è un po', diciamo, in pratica, come parlare di ETH, che ha performato meglio, ed Ethereum qui, che ha performato meglio a livello di un anno, ma praticamente niente, cioè un pochino meglio nell'ultimo periodo. Per il resto, delle altre criptovalute che sono nelle top, non abbiamo quasi niente. BNB, vedete, è più 2%, ma in pratica è come dire, è identico, perché un 2% a livello annuale, così come un 5%, non cambia niente. Questa è stabilità di prezzo. Io considererei già da qui in su come un maggiore incremento, quindi secondo questo tipo di tabella, solo Uniswap sta guadagnando di più delle top. Poi ce ne sono alcune, che però hanno una buona market cap, e che stanno performando molto meglio di Bitcoin, e cioè una market cap, per esempio, intorno ai 2 billion, 3 billion, come Arwave, che sta performando molto bene, e anche FET, che ha performato molto bene rispetto a Bitcoin, perché è un dislivello, ragazzi, anche un 10% in più. Alla fine dei conti non vale la candela, ma un 100% in più, un 70-80% in più, vale e come. Anche qui abbiamo TETA, che sta performando molto bene, e c'è anche, diciamo, ENZ, eccola qui, non la trovavo, che però ENZ è una criptovaluta un po' piccolina, seppur, diciamo, molto famosa da alcuni punti di vista. L'altra poi è Gala, e poi alcune altre criptovalute, ecco, Graph, che era qui. Le altre, ancora una volta, sono un po' piccoline, eccetera, e quindi, diciamo, le prendiamo meno in considerazione, e poi andiamo più o meno nella parità. Questo per farvi capire come, intanto, Bitcoin è fortissimo in questa fase, e come, in realtà, moltissime cripto sono entrate in una spirale rialzista, e sono molto forti, solo che non sono tutte, è questo il discorso. Quindi, è come se fossero sette realmente un po' divise. Va bene, allora, ragazzi, questo video lo sto registrando questa mattina, quindi spero che Bitcoin si mantenga. Attenzione alla conferma daily, quantomeno sopra i 70.000 dollari, e deve mantenersi, proprio, in chiusura, appunto, mini-modelli, poi dovremmo vedere la fine della settimana. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video, buon inizio settimana a tutti, e comunque vada, buona ATH, perché oggi è oggi, è giorno di ATH. Ciao, ragazzi! di8.000 dollari,